A Silvi la giunta comunale ha approvato e presentato le linee guida del PEBA, il piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche. Attraverso l'impiego delle risorse attinte dal settore del sociale sono state poste le basi per la redazione di un progetto che mira a costruire il futuro di una città inclusiva. Un altro tassello che si è aggiunto all'attenzione che questa amministrazione dà verso il sociale e ci saranno le presentazioni delle linee guida e la discussione con tutta l'associazione del settore che ci daranno ulteriori indicazioni. È una cosa che tutti i paesi civili dovrebbero dotarsi, è una cosa che porterà un cambiamento verso l'attenzione della vivibilità del paese e verso le persone diversamente abili. Una volta definito il piano quando inizieranno poi i lavori? Ci sarà una zonizzazione del piano, nel senso prenderemo di punta le strutture più frequentate dalle persone che hanno difficoltà e pian piano sicuramente inizieremo. Si tratta di uno strumento che mette la persona al centro della comunità e completa la visione di una città che deve essere accessibile e fruibile da tutti coloro che vogliono viverla. Naturalmente avevamo in programma questo obiettivo, l'abbiamo raggiunto in maniera puntuale, siamo convinti che nei prossimi mesi partiranno dai lavori di adeguamento e la città dei Silvi sarà sicuramente più inclusiva per un territorio che merita un turismo accessibile. Eliminare le barriere architettoniche significa offrire a tutti le stesse opportunità di vivere Silvi, cancellando gli ostacoli o realizzando strutture che agevolino l'accesso. Le barriere architettoniche sono un male del nuovo millennio, ma più che altro sono frutto delle barriere culturali che esistono, sono le figlie delle barriere culturali, per cui impedisce, sono un ostacolo per quanto riguarda la piena esplicazione della persona umana e quindi il vivere e l'ambiente che lo circonda. Un lavoro che procederà di pari passo con la fase di ascolto che coinvolge tutti i portatori di interesse, associazioni e stakeholders. Io ringrazio l'amministrazione e ringrazio anche gli amministratori che qualche anno fa si sedettero in carrozzina e avevano capito perfettamente il significato vero della disabilità, che non è malattia ma è condizionata fortemente da un ambiente. Quindi è un momento straordinario per tutti perché ormai non si parla nemmeno più di barriere architettoniche ma di accessibilità, cultura universale dell'accessibilità. E quindi è necessario farlo per avere assolutamente una città accessibile appunto per tutte le categorie. E quindi è necessario farlo qui, ai lavori pubblici, nei servizi, abbiamo un mare meraviglioso ma non abbiamo una spiaggia accessibile, abbiamo il problema della mobilità e quindi un problema davvero che coinvolge tutta la popolazione. Grazie.